benvenuto o benvenuta all'interno di questo webinar oggi ti presenterò il progetto marketer expert cosa imparerai all'interno di questo webinar imparerai come creare la tua attività digitale online partendo completamente da zero imparerai come crearti un extra mensile in parallelo alla tua attività principale infatti avrai la possibilità di potenziare e digitalizzare un tuo business una tua passione o una necessità assicurati di non avere distrazioni di aver spento il cellulare di essere attento a tutte le fasi del webinar e eventualmente di prendere qualche appunto rimani fino alla fine perché riceverai due super bonus in regalo ti starai sicuramente chiedendo ma che cosa diavolo è marketer expert bene il nostro slogan è crea il tuo business online seriamente siamo una community di imprenditori digitali professionisti studenti amici networker che vogliono capire come digitalizzarsi titolari di piccole e medie imprese oppure semplicemente persone normalissime con la necessità di digitalizzare una passione o un progetto personale e farsi conoscere sfruttando il potere del digital una community dove ci si aiuta a vicenda e ci si dà supporto reciproco una community dove viene data formazione costante settimanale di altissimo valore a chi ci rivolgiamo a chi non ha un business online e vuole capire come crearne uno partendo completamente da zero a chi ha già un proprio business e vuole sapere come digitalizzarlo e magari migliorarlo oppure semplicemente a chi ha una passione o una necessità e desidera farsi conoscere su internet qual è il nostro obiettivo l'obiettivo principale della nostra community è quello di aiutare più persone possibili a costruire la propria identità digitale sul web e a raggiungere i propri obiettivi personali economici e professionali il mondo del lavoro è in continua evoluzione molte professioni si stanno estinguendo molte altre stanno tornando di moda tante si stanno evolvendo e tantissime altre stanno nascendo ecco che il nostro aiuto arriva una piattaforma veramente fantastica builder all builder all è una piattaforma di strumenti digitali only one all'interno di builder all troverai tutti i migliori strumenti di marketing digitale tra cui il costruttore di pagine web che ti permetterà di costruire siti landing page fan e molto altro avrai uno strumento di email marketing ovvero digitalizzerai anche l'invio di infinite mail e infiniti contatti clienti avrai un hosting incluso fino a 15 domini avrai la possibilità di costruire il tuo fan nel con il nuovo strumento canvas e molto altro ancora entriamo all'interno della piattaforma builder all andiamo a vedere la nostra dashboard come puoi vedere abbiamo il costruttore cita builder che un costruttore auto responsive di conseguenza permetterà di avere un sito completamente adattato su qualsiasi tipo di dispositivo che sia un computer uno smartphone oppure un tablet abbiamo lo strumento di automazione più intelligente su email marketing in larga scala che ti darà la possibilità di migliorare l'esperienza del cliente attraverso il nostro auto risponditore mail inbox come puoi vedere avrai la possibilità anche di creare un vero e proprio corso all'interno di marketer expert grazie allo strumento e learning in più avrai la possibilità di creare dei chat bot che in tua mancanza ti darà la possibilità di aiutarti in qualsiasi momento potrai creare anche un sito grazie all'integrazione wordpress in tre semplici click e potrai creare dei webinar come questo qui non è finita qui perché avrai infiniti modi di lavorare e guadagnare ma questo lo cooperai strada facendo come posso guadagnare fin da subito te lo spiego immediatamente perché builderall presenta un piano di affiliazione tu consulente effettui la prima vendita bene su questa prima vendita a prescindere da quale pacchetto tu abbia venduto al tuo cliente rigavi il 100% sulla prima vendita successivamente dal secondo mese in poi percipererai il 30% ogni mese quindi avrai una rendita ricorrente la stessa cosa succede sulla seconda fila quindi andiamo a guadagnare sia su paola che sul livello 1 che su michele che sul livello 2 quindi una vendita in diretta che non abbiamo fatto noi ma non è finita qui cosa ne pensi se avresti la possibilità di ricevere un'auto aziendale 100% pagata dall'azienda tu dovrai solo mettere la benzina ok figo ma come funziona il bonus auto o cash lo scegli tu ti basterà accumulare un certo numero di clienti per avere questi bonus alcuni dei nostri collaboratori hanno quasi raggiunto questo obiettivo ti faccio vedere alcune prove di guadagno dei nostri collaboratori come puoi vedere la piattaforma è 100% pagante con questo non voglio promettervi che la piattaforma vi farà raggiungere al 100% questi risultati potrete raggiungerne dei superiori o inferiori questo dipenderà da quanto prenderete seriamente questo progetto magari ora ti stai chiedendo come faccio a trovare clienti a cui serve builderall inizialmente ti avevo promesso due regali stai per ricevere il primo sei pronto riceverai gratis il nostro corso di formazione di un valore di 997 euro dove troverai tutte le informazioni strategie pratiche da applicare subito e farti trovare dalle migliaia di clienti la fuori che stanno cercando proprio il tuo servizio o prodotto perché diamo il corso gratis perché crediamo nelle persone perché la nostra missione è aiutare più persone possibili ad avere successo online nel corso cosa si impara bene entriamo all'interno del corso i membership hanno la possibilità di accedere a un'accademia completamente gratuita e che ti darà la possibilità di svolgere passo passo una serie di metode e strategie già pronte all'uso che ti permetteranno di diventare un vero e proprio esperto del settore è ora di dire basta ai finti guru ragazzi all'interno troverai la possibilità di vedere e rivedere le lezioni tutte le volte che vorrai in più per qualsiasi dubbio o chiarimento avrai la possibilità di inserire un commento e di attendere la risposta come faccio a ottenere tutto questo valore facciamo insieme un breve riepilogo diamo un valore al pacchetto marketer expert abbiamo detto che il corso marketer expert ha un valore di 997 euro il gruppo privato facebook ha un valore di 85 euro al mese le zoom live di formazione hanno un valore di 200 euro al mese in aggiunta al corso e un supporto diretto privato h24 hanno un valore di 50 euro al mese per un totale di 997 più 335 euro al mese potrai accedere a tutto il pacchetto a soli 26 euro e 90 più iva attivando l'abbonamento mensile marketer di builder all ma solo per oggi voglio fare molto di più riceverai un ulteriore bonus del valore di 1000 euro ho impiegato settimane di duro lavoro per costruirlo e te lo voglio regalare ricordi all'inizio ti avevo promesso due regali eccoti il secondo ti regalo il mio stesso funnel di vendita e mail già pronte immagini e testi social strategie e metodi pronti all'uso ti mostrerò come scaricarlo impostarlo e lanciarlo online come fare per ottenere tutti questi bonus sotto questo video troverai il pulsante della tua vita ti basterà infatti cliccare il pulsante creare il tuo account builder all gratuitamente ricordati di segnarti le credenziali su un foglio e di non perderle successivamente ti basterà confermare la tua iscrizione cliccando il link contenuto nella prima mail che riceverai dopo la registrazione in builder all segui attentamente le istruzioni che troverai nella seconda email per accedere al gruppo facebook se hai qualche dubbio contatta il tuo consulente builder all che ti do un consiglio agisci ora e lancia la tua attività digitale perché questi due regali che ti sto proponendo oggi non ci saranno per sempre o per lo meno non per molto quindi buon business